La mia attività di ricerca è focalizzata sullo sviluppo di un biosensore ottico basato su materiali nanostrutturati per la diagnosi precoce del cancro. Io e i miei colleghi ci siamo focalizzati su una molecola nota con il nome di angiopoietina che fornisce il carburante per diversi tipi di cancro, in particolar modo per quello alla mammella. Nei nostri laboratori presso il Politecnico di Torino abbiamo sviluppato un sistema di misura compatto e semplice da utilizzare che ci permette di stabilire se un paziente è malato analizzandone poche gocce di sangue. Inoltre la nanostrutturazione del biosensore ci permette di andare a misurare bassissime concentrazioni di angiopoietina e quindi di identificare le primissime fasi della malattia. Il mio nome è Francesca Frascella e sono un chimico. Anticipare la diagnosi della malattia può dare speranza e salvare la vita di migliaia di persone.